Le maggiori vittime del disagio procurato dalla installazione dei cordoli in via Cesare Battisti sono i commercianti, gli operatori commerciali e stiamo ascoltando il parere di più operatori di settori merceologici diversi e si arriva purtroppo ad una conclusione comune che questi cordoli comportano anche un calo delle vendite considerando l'economia tarantina che già langue, come dire, piove sul bagnato I cordoli sono un problema veramente serio perché non solo calo delle vendite per quanto riguarda i commercianti in tutta la via ma problema logistico di traffico, quindi un traffico mostruoso si crea invece dei battisti blocco di persone che suonano, si lamentano anche i residenti stessi della stessa via per ovviamente l'acustica che è aumentata da quando hanno montato i cordoli macchine che non riescono a passare ho visto addirittura camion molto grandi che con le ruote vanno addirittura sopra i cordoli perché ovviamente queste strade non permettono il passaggio di questi grandi mezzi non ci sono le sosse di carico e scarico o meglio, quelle poche che ci sono sono perennemente occupate sono perennemente occupate, ovviamente, dato che questa via ci sono tanti negozi non c'è spazio per tutte le attività che devono scaricare, caricare, eccetera, eccetera UPS, TNT, hanno una difficoltà enorme quindi hanno creato veramente un disagio pazzesco questi cordoli come dire, via Cesare Battisti, con i cordoli, è qui l'inferno diretta il disagio che si crea un'auto esce dal parcheggio e per una semplice uscita ovviamente si blocca il traffico parliamo di una semplice uscita, di una semplice entrata guardate lì, guardate lì, una semplice macchina qui siamo ostruiti dal Pullman una semplice macchina che sta cercando, mi pare, di uscire dal parcheggio si congestiona il traffico guardate, scusatemi l'espressione, che casino tra l'altro per chi parcheggia ha anche difficoltà nell'uscire dal parcheggio perché le manovre con questi cordoli sono praticamente impossibili da fare e teniamo conto che questo è il mese di agosto dove ci sono meno macchine quindi non oso immaginare cosa possa essere questa via nel mese di novembre o nel mese di dicembre un caos totale